Musica Si parte da un pelo di gessuto 40x20 che viene interamente torpilato per garantire ai lavaggi che non si spiglia il gessuto. Questo pelo viene prestirato, impulturato per creare l'apertura che c'è sulla moscherina, inseriti gli elastici laterali, segnato per creare questo soggetto che dà la possibilità di vestire alla moscherina, quindi viene impulturato, poi va alla fase di ripulitura dei fili e lo stiro finale all'impassettamento. Queste mascherine sono lavabili tutte, ma senza il filtro è comunque efficace? Senza il filtro è una mascherina di fosone, quindi può essere utilizzata ma non a solo meglio.